La Puglia è anche regina del turismo enogastronomico. Non solo meta preferita per le vacanze balneari, sale sul podio delle mete più gettonate per le prossime vacanze all'insegna del buon cibo. Infatti il 23% dei turisti italiani e il 22% dei turisti stranieri sceglie la Puglia proprio perché meta enogastronomica, perché gli stessi turisti vorrebbero visitare la Puglia, la terza per preferenza nella classifica nazionale dopo la Sicilia e la Sardegna. Il food and wine pugliese si conferma così un volano per il turismo della regione. Il dato è emerso durante la presentazione del sesto rapporto del turismo enogastronomico italiano illustrato alla stampa a Milano nel Palazzo Touring Club. E ancora il 31% degli italiani considera la Puglia tra le migliori mete enogastronomiche del bel paese, quarta in classifica, ed un turista enogastronomico su cinque dichiara di esservi recato durante le ultime vacanze per vivere esperienze con il tema cibo e vino. Un fascino certamente trainato dalle sue tipicità culinarie, le orecchiette le più conosciute in tutto il mondo, indicato dal 26% dagli italiani, seguite poi dai taralli e dall'olio. La Puglia è così l'unica regione italiana che vede l'oro verde nella top 3 dei prodotti maggiormente consumati. L'indagine del rapporto del turismo enogastronomico è stata condotta nel gennaio 2023 attraverso un questionario via web su un campione di 1500 persone rappresentativo della popolazione turistica italiana. Il turista enogastronomico è colui che sceglie di fare le vacanze in Puglia per vivere questa esperienza che diventa la principale motivazione di viaggio alla quale poi si aggiungono altri attrattori come per esempio il mare, l'arte e la cultura oppure i cammini e la bike. La sinergia con gli istituti alberghieri e con la filiera della ristorazione è indispensabile per continuare a migliorare la qualità dell'offerta enogastronomica e consolidarla.